Maria Narrandazzo, lei insieme al gruppo che a Sciacca ha già manifestato il Friday for Fugger di Greta ha nuovamente una nuova iniziativa in programma, sabato pomeriggio 15.30 allo Stazzone. Perché avete scelto proprio questa località? Bene, abbiamo scelto lo Stazzone perché è uno dei luoghi più fruiti da ragazzi di Sciacca. L'abbiamo scelto perché è stato soggetto a varie pulizie nel corso degli ultimi mesi soprattutto però viene ritrovato sempre sporco purtroppo, pieno di bottiglie, lattine, bicchieri eccetera. Quindi abbiamo pensato di coinvolgere i ragazzi che poi alla fine sono veramente loro che lo frequentano di più e speriamo di dare il buon esempio. Lo diceva lei, più volte ripulito e più volte purtroppo sporcato. Quindi i ragazzi che si danno da fare per dimostrare che l'immagine dei ragazzi non è solo quella che sembra. Esatto, esatto, non è soltanto quello che sembra. Noi speriamo di dare il buon esempio. Infatti speriamo di avere una responsabilità doppia, penso, perché poi soprattutto sarà sabato pomeriggio e secondo me ci saranno anche tanti ragazzi che frequentano il lungomare, il muretto. Quindi speriamo di dare questo esempio. Alle 15.30 rinnoviamo l'appello anche a quanti si volessero unire e non solo ragazzi, perché è aperto a tutti? Assolutamente, assolutamente aperto a tutti. Infatti abbiamo già esteso l'invito per esempio a Sciacca Pulita e hanno già detto di sì che parteciperanno. Quindi sarà sabato 28 settembre alle 15.30 al Borgo dello Stazzone. Grazie. 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 Grazie.